Il mar Adriatico, il mar Tirreno Ma chi cazzo è questo Spider-Man? Non voglio sapere il tuo superpotere Laurentino Chiara Ecco i fatti, vedi Già lo sai Cosa? Valentino Chiara E io Filippo un po' scuro, vabbè Però leggermente abbronzato Dai, votami sto outfit drip da 1.10 Ah, perché è pure un outfit Devi sfilare per i Power Rangers Anche Cinthaguchi hai visto? Perché Gucci è scritto con una C Gucci Per questo cappello, fra Spock Minsch Catherine San quando parli quella roba sembri me dopo un sei meno in matematica è chiaro, come il tuo culo tu ascolti Simba? si dai canzone preferito è bella cuna matata poi quella dove fa voglio diventare presto un re e lo ascolti baby quella spacca babe, babe, baby oh, Justin Bieber beh fra mi dispiace ma non è in stile ho parlato il cosplay brutto di Iron Man questo è drip fra guardate come sull'Axpanet ci finiamo con l'Axpanet guardate come sull'Axpanet